Buongiorno a tutti, brindisi alla sua lista 5 Stelle e io sono Gianluca Serra, candidato sindaco alla città. La nostra città è un'occasione unica di rompere con il passato, un passato fatto di mala politica e cattiva amministrazione. Per questo noi daremo centralità, impegno, competenza, legalità ed onestà. Con il Movimento 5 Stelle possiamo dare un futuro a brindisi partendo da un nuovo modello di sviluppo che affondi le sue radici nelle vere vocazioni del territorio che sono il turismo, l'agricoltura e la portualità. Brindisi dovrà essere più sicura con una seria lotta all'illegalità ma anche con un sostegno importante alle famiglie più deboli. Dobbiamo ritornare nelle periferie con sportelli sociali di comunità uno per quartiere e concedendo incomodato uso gratuito locali comunali a comitati di quartiere, associazioni di volontariato e società sportive che promuovono lo sport gratuitamente. Solo con il sostegno di tutti possiamo cambiare la nostra città perché solo il Movimento 5 Stelle è il vero cambiamento. Grazie.